La legge comunitaria si propone l'obiettivo principale di armonizzare l'ordinamento regionale con il diritto dell'Unione Europea su quattro grandi tematiche, ambiente, agricoltura, turismo e tutela della salute. Soddisfatto per l'approvazione della legge comunitaria il capogruppo di Taglia dei Valori Carlo Costantini. È veramente un appuntamento importante, probabilmente sottovalutato fino a poco tempo fa dalla politica, dai cittadini, dai mezzi di informazione. In realtà l'adeguamento dell'ordinamento legislativo regionale alle direttive comunitarie rappresenta una grande opportunità di sviluppo e di introduzione di riforme che diversamente attraverso il procedimento legislativo ordinario faremo molta fatica ad introdurre. L'Europa è sempre più un faro per il legislatore nazionale ma anche per i legislatori regionali che oggi hanno piena autonomia costituzionale nel recepimento delle direttive. Quindi è chiaro che i recepimenti di questi provvedimenti che semplificano i procedimenti, che riducono l'impatto della presenza pubblica nei confronti delle attività produttive, che semplificano complessivamente la legislazione, ha una capacità di modifica dell'impianto legislativo di una regione molto importante. Ripeto, la politica da sola difficilmente sarebbe riuscita a raggiungere risultati così importanti. L'occasione della comunitaria è l'obbligo di recepire direttive che comunque hanno forza di legge, perché nel contrasto tra una legge della regione e una direttiva comunitaria prevale sempre la direttiva comunitaria. Però è un contesto disordinato, disaggregato e disomogeneo. Oggi invece gli operatori economici e i cittadini hanno la possibilità di avere un quadro d'insieme in settori strategici, come il turismo e altri settori trainanti per l'economia della nostra regione, con delle certezze che prima non avevano. Questa approvazione all'onemità che messaggio dà agli abruzzesi? Ma è un messaggio di condivisione dei progetti e delle proposte che vanno alla direzione giusta. Noi l'abbiamo detto in più occasioni durante questi giorni. Ha avuto un iter abbastanza travagliato perché c'è stato un tentativo da parte della maggioranza di inserire in questa legge, che è una legge che deve solo recepire direttive comunitarie, degli articoli che indirettamente erano riconducibili a direttive comunitarie ma che in realtà servivano a riformare dei settori. Abbiamo convinto la maggioranza a rinviare in specifiche proposte di legge i processi di riforma di settore, penso ai rifiuti, penso all'elettromagnetismo. Nel corpo della legge è rimasto solo recepimento delle direttive e in un contesto come questo abbiamo avuto il dovere di prendere atto il buon lavoro fatto dalla Commissione e anche dalla maggioranza, anche grazie al nostro contributo, esprimendo il nostro voto a favore.